Ehi là, benvenuti in questo nuovo se perdo scendo. Dalla chat potrete notare la gente che mi flamma, ma noi sappiamo benissimo che questo youtuber in pigiama più trolla e più è da temere. Già provate i streaming un paio di volte per voi sfigati di merda che non venite a seguirmi live, lo porto anche qui, brand giungla. Ora voi starete dicendo, vabbè sei un coglione come al solito, vabbè non ti interessa salire, vabbè inti. Intanto io sto piccando brand giungla a 0 lp gold 5 per farvi capire, no? Io non voglio finire silver un'altra volta, pure. Perché sto giocando brand giungla? Proprio per vincere. E questo è quello che ci separa, me e voi. Ma è inutile parlare, perché le parole non hanno mai fatto bene a nessuno. Passiamo ai fatti. Brand giungla purtroppo soffre di una cosa soltanto. Ah! Quello che brand giungla deve temere è soltanto gli invade, appunto. E ovviamente adesso vogliono rovinarmi la mia vita. Nessun problema. Grazie Sona che sei andata a controllare fisicamente, ma avrei preferito più un invade, sincero. Cioè, un aiuto, no? Un invade. E porca! Ecco, questo è quello che brand giungla soffre. Gli invade. Se non mi avessero invaso, sarebbe andata decisamente meglio. Ma... Ora, ovviamente, è inutile andare in panico. Sarebbe... Sarebbe subito. Grazie, vedi? Gentile. Mi hanno lasciato il minion grosso. Gentile da parte loro. Puttanella! È l'ora della pappa! È l'ora della papina! Puttana! Piaciuto il cazzo? Puttanelle! Puttanelle! Come potete vedere... Sì, brand jungler... Brand jungler è una debolezza. Gli invade. Soffre molto gli invade ai primi livelli. Ma nonostante abbia avuto un invade ai primi livelli e mi abbia rovinato la vita, sono comunque riuscito a killare i miei avversari. Scoparli nel culo con un solo un gank. E mo ci arrepichiamo tutto quello con il vostro. Dove vai, butta? Dove vai, butta? Dove vai, butta? Dove vai, butta? Bimbi boom! Arrivo, bitch! Attenzione! Wow! Aiutatemi contro sto Garen! 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 Ho sbaitato il minion, serio? Sero? Ignite! C'ha Garen! Oh no! Maronazio! Cioè, è così! Maronazio! Beh, amici, come potete ben notare, 6-3-7, nonostante l'invade iniziale, è un buon risultato per un jungler così strano, no? Brand jungler, signori! Qui stiamo riscrivendo il fucking meta! Volete vedere dal vivo questo bel signorino qui? Che carri ha le partite con questi pick fantastici! Venite a Romics! Sabato e domenica ci sono! Nooo! Ah, Lux vuole fare il gran pezzo! Aspetta, fammi fare a me il pezzo! Che vuoi fare là dietro, tu? Fammi capì! Che vuoi fare là dietro, tu? Ah, puttana! Vabbè, ho capito, niente Lux! Vabbè! Oh, cazzo! Ah, devo morire un'altra volta! Aiuto, Zeria, via il focus! Puttana! No, finché sta Lux rimane in vita non faccio più sto Baron di merda! Guardatevi che fai i puttanoni qua dietro, eh! Subite BB! Mi potresti dare sto Baron, grazie! Grazie Lux per il danno! Ah, yes! Beh, signori! Brand jungler! Sembrava una cazzata, ma alla fine ce l'ha fatta! 11, 7, 22! Per l'amor di Dio! Un MMR così basso! Rieccoci, seconda parte! Mi sono solto il pigiama perché ho dovuto fare una riunione con... Un rappresentante di Twitch Europa! Raga, che figura di merda! Perché ho dovuto parlare per 20 minuti in inglese! Per 20 minuti in inglese! Io sembravo Super Mario! Oh, I want to do Twitch! Raga, ovviamente, ultimamente su YouTube sto facendo meno video! Ne sto facendo due a settimana da quando ne facevo uno ogni due giorni! Quindi mi dispiace per chi è solo su YouTube, però voi dovete avere presente che io ogni giorno praticamente quasi streamo su Twitch! Cioè, YouTube... Avete visto quella tizia che è andata a sparare nella sede di YouTube in America? Non la sto giustificando, eh, per carità! Cioè, è pazza! È pazzissima! Però è la fine che farò anch'io se YouTube continuerà a demonetizzare i miei miei... No, scherzo! Però veramente, raga, non si fa un cazzo con YouTube ormai! Con YouTube non si fa un euro! E ci vuole comunque tempo! Cioè, comunque per fare un video tu devi giocare alle partite, le devi editare! Metti due partite! Metti edit, rendering e upload! È praticamente lo stesso tempo, se non pure un po' di più di tempo che dedicheresti a uno streaming! Solo con lo streaming fai il quadruplo dei soldi che faresti con un video Ovviamente non abbandono la piattaforma che mi ha creato Con la speranza che un giorno YouTube torni ad essere serio Quindi io continuo a fare video su YouTube perché comunque è una piattaforma importante Ma scusate questa parentesi però è per chiedervi scuse e per giustificarmi Perché sto facendo pochi video ultimamente Parliamoci chiaramente, non diciamoci le bugie Là è più facile Ti siedi, accendi la telecamera e streami Ti diverti perché sinceramente io mi diverto di più in chat Che su YouTube gioco da solo, edito tutto il tempo a tagliare Su Twitch mi metto là, urlo come un coglione Chi cazzo sei tu? E tu pensi veramente di potermi battere così? Ah, forse così sì Grazie Volibear, mi serviva proprio una mano così Wow Allora, fatti il cazzone Mo te lo do io il cazzone amico Wow Ma sto carretto si è affezionato a me Eeeh Vecchia rottura di cazzo Vuoi il cazzottone? Ma nonno Pancia Cazzo però il mano è poco Questo bastardo Bastardo non muore Oh oh E' impazzito E' impazzito sto gameplay Ma che cazzo ti viene all'improvviso? Trogato Kane è tutto tuo bro PUNC Lo volevo io però Bastardo Wow Ciao Kire Ah, è italiano Un po' rubatina La cisiona Allora sta Osce Dove vai? Aia, questo m'ammazza Siamo stati attenti Aia, questo m'ammazza Ma nonno Pancia Due top Stupide bibi Ma nonno Pancia E' vabbè E' vabbè Tutto Poi ho messato pure il cazzotto Ho fatto la figura di merda con quel tizio italiano L'ho sfondato Volevo fare l'outplay magica Verrà qua sto Driven del cazzo prima o poi, no? Lo vuoi un cazzotto Driven? Lo vuoi un cazzottone? E' che palle E' rotto il cazzo E' rotto il cazzo E' rotto Quella Lulu del cazzo Quella Lulu del cazzo Mo' prendo un cazzotto Che mamma mia Mamma mia Lutam Wow, l'ho buttato dentro la Q di Lux L'ho buttato Oh, vuoi morì? Oh, quanto cazzo l'hanno pillato bene sto Driven Mamma mia Delle persone con le mani Un jungler con le mani Un ad carry con le mani Un mid laner quasi con le mani Oh, oh, oh E' morite Che team fight Che team fight che abbiamo fatto Mamma che team fight Che team fight che abbiamo fatto Un team fight della madonna Mamma mia, ma che? Due partite e due vittorie Ma che oggi? Bella Ash Mi è piaciuta 14 13 Mamma mia, raga E' bella che se perdo un game Ne perdo tipo 23 di punti E niente, raga Grazie per aver visto pure sto video oggi Ci vediamo in fiera se ci siete Se non ci siete ci vediamo sul canale Penso Non so se domenica riuscirò a fare il video di Resident Evil Forse lo farò lunedì In ogni caso ci becchiamo Un salutone Ciao, 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 ciao Ciao, ciao, ciao Grazie.